Domenica 21 febbraio in Puglia sono stati registrati 7083 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 758 casi positivi. 336 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 99 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 118 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 6 decessi di cui 2 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono 103.496 pazienti guariti e 33.198 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.